La sommelier e insegnante del Comprendo di Montesilvano, Anna Maria Kunso, che quest'estate ha riscosso veramente tanto successo con la sua sapiente maestria. Sono appena tornata dall'evento Gessi Divini ed è stata un'esperienza magnifica. Gessi Divini si svolge nel borgo medievale di Gesso Palena e questa è la prima vera edizione ufficiale, anche perché c'è stata la prima degustazione ufficiale dei vitigni Nero Antico di Preta Lucente e Vedovella Nera. Due barra tre vini molto molto interessanti, con il Nero Antico di Preta Lucente si è fatta sia la spumantizzazione che il vino rosso fermo. La Vedovella Nera invece è un clone del Sangiovese. Devo dire che sono tre vini molto interessanti, partendo dallo spumante con un color salmone molto brillante, una sapidità molto spiccata, le note olfattive riprendono la crosta di pane, riprendono una punta grumata, un po' una sensazione iodata. Invece il Nero Antico, versione rosso fermo, riprende tutto il bouquet della frutta matura, delle ciliegie sotto spirito, della fragolina di bosco. La Vedovella invece è molto più robusta e molto più persistente. Quando l'annusiamo sembra di stare in un campo di violette, è un vino molto interessante. La cosa che contraddistingue questi tre vini è la vendemmia tardiva. La vendemmia l'anno scorso non è stata fatta nel periodo canonico, quindi agosto, ma è stata fatta nel periodo che va dopo il 20 ottobre. Quindi anche questa vendemmia tardiva dà un certo carattere al vino, soprattutto la spiccata freschezza che si sentono in tutti e tre questi vini molto particolari. L'evento è andato molto bene, l'afflusso, l'affluenza è stata davvero tanta. Devo dire che è stato il mio primo evento pubblico importante e quindi sono molto soddisfatta per questo. Grazie.